Amir Khan, da Hambrappa, Mayweather Junior. Lo stanno dicendo che a me, bisemi, ti chiede a parlare con il dia 3 di mei. Cosa manda un messaggio a Twitter, da Money Man, dicendo a Mayweather, che sempre chiede a pelea facile. Gli altri fanatici non chiede a parlare. Talvez se hai ragione che non chiede a parlare con me. Se hai parlato di cani, che è Argentino, Maidana. Sì, è in questa. In questa realizzata, nella pagina di Mayweather, nella internet, i fanatici non chiede a parlare con Pacquiao. Non chiede niente il suo nome, ma è Mayweather con Pacquiao. Sono i fanatici di Amanda Bissele. E Jennifer Peter, l'unico atleta di weightlifting, che va a lavorare in Odessur e a guardare per i deportisti di anni per weightlifting. E' questa qui da Jennifer Peter, che il anno passato, ha lograto molto buoni risultati e ha abri anni, chebrando diversi record di addività di bettico. Lo va a lavorare in Odessur. Il treno non è vero più pesante, secondo il giorno non è cercato. Lo va a lavorare in Chile, con le 7 a 18 di marzo. Il treno è l'unico qui è molto duro. Per me, 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 per me per me, per me, per me, per me, per me, per me. Ma sempre sarò più pesante. A 32 anni mai, per me non èiningi più pesante. In compito, mille. Ma sempre sarò algenommen nel Often whene, per me, per me, per me, per me per me per me per me. E poi poに, dove付ciаться un momento inowsita. Il treino di treino? 5-6 giorni per settimana. Quante ore a cada giorno? 3 giorni per il treino. Il treino è sufficiente? Certo un tic? Non, non è buono per la roba. Non è buono per la roba, ma non è più difficile. Il treino è un programma di treino, è un programma di treino? Il treino è un programma di treino? Sì, in gioco con un plato, che fare con un treino è un treino. Il treino è un programma di treino è un programma di treino, è un programma dove con il treino. Sì, è un plan. Vi ho provato la roba dell'azienda. Ho gli ho fare la maniera di treino, ho gli ho fare la tecnica, la hobby tecnica. È un programma di treino, ora sono in un programma di treino. Coach con la compagnia Jennifer per l'Odesur è hoppio optimista per l'Odesur, per l'Odesur Non è un frutto, ma perchè ci vediamo che ci vediamo. Ci vediamo che ci vediamo che ci vediamo di energia? Si, ci vediamo che ci vediamo più motivati che mai ci vediamo. Ci vediamo che ci vediamo più progressi e più energia. Ci vediamo davvero qualcosa di più positivo. Ci vediamo che ci vediamo che ci vediamo in un'altra parte del nostro sudore, ci vediamo in un picco. Si, ci vediamo anche con il nostro pianeta, con la intensità e la maniera che ci vediamo di circa 10, ora ci vediamo in un picco di traiettura di peso.